A Castiglione Fiorentino dal prossimo 4 febbraio al via un nuovo ciclo di conferenze dal titolo Ripartire dai fondamentali con Massimiliano Griner. Sì, è il secondo anno che presentiamo questo ciclo di conferenze che è una rassegna che abbiamo titolato come titolo principale Inoltre perché vogliamo fornire soprattutto ai cittadini castiglionesi uno sguardo che va oltre i nostri confini locali, quindi noi vogliamo attraverso il contributo degli ospiti autorevoli che verranno a Castiglione Fiorentino consentire a tutti la possibilità di confrontarsi e di avere un interessantissimo scambio. Quattro appuntamenti, quattro ospiti che dialogheranno dunque sull'attualità, qual è stato il Phil Rouge che ha guidato la scelta di questi ospiti? Sono due anni di pandemia, un anno di guerra, abbiamo pensato che fosse necessario ripensare appunto ai fondamentali, ripartire da zero, Sigfrido Ranucci ci racconterà com'è oggi raccontare la realtà, sempre più complesso, ma ci siamo chiesti anche come ripartire con l'arte perché l'arte è sempre stato un grande e straordinario farmaco, oggi nell'epoca del metaverso l'arte è completamente diversa, Roberto Mezzalama che è un esperto, ingegnere, ci racconterà anche come vedere un futuro oltre ai limiti delle risorse ormai limitate che abbiamo e poi infine avremo con noi Pietro del Soldà che tutti gli ascoltatori di Radio 3 conoscono, che aiuterà a vedere nella filosofia uno strumento straordinario per capire la realtà.